Dal Vangelo secondo Giovanni Una buona Pasqua a tutti. Oggi la liturgia ci fa ascoltare un altro brano del testamento di Gesù che abbiamo cominciato a leggere la scorsa domenica. Siamo ancora nel Cenacolo ed è il momento del commiato di Gesù dai Suoi discepoli. Sappiamo quanto è doloroso il distacco dalle persone che amiamo e questo distacco va metabolizzato bene altrimenti può lasciare delle ferite profonde per il resto della vita. E Gesù vuole preparare i Suoi discepoli a continuare la loro vita senza la sua presenza fisica. A questi discepoli lui ha affidato un compito immane, quello di cambiare il mondo. E loro sanno di essere un gruppo sparuto e per giunta già ferito dalla defezione di uno di loro che si è già allontanato e uscito dal Cenacolo. Devono andare ad annunciare la bellezza del volto di Dio che hanno contemplato in Gesù di Nazareth. Dio buono e soltanto buono che ama in modo incondizionato tutti i suoi figli e chiede loro anche di amare come lui ha amato, quindi anche il nemico. Un compito davvero grande quello che Gesù ha affidato loro ma i discepoli si sentono deboli, fragili e Gesù sta per lasciarli. Cosa si chiedono? Beh, la domanda che certamente loro si sono posti è come potremo noi portare a compimento questa grande missione che ci è stata affidata. È verso la fine del primo secolo che Giovanni ha scritto le parole sacre che Gesù ha pronunciato durante l'ultima cena. Sono le parole che hanno dato conforto a loro, agli undici che erano allo sbando fino alla Pentecoste e sono le parole che hanno sostenuto anche la prima comunità cristiana nei primi anni della sua vita quando ha dovuto affrontare prove e persecuzioni. Giovanni ha scritto per i cristiani delle sue comunità dell'Asia minore questo testamento di Gesù. È il tempo di prove e anche di defezioni alle quali fa riferimento il libro dell'Apocalisse. Ricordiamo come si presenta il veggente dell'Apocalisse, ci dà subito l'idea del contesto in cui le comunità cristiane stanno vivendo. È un tempo in cui sono emarginati, cacciati dalle sinagoghe, oggetti di ingiustizie, di soprusi. Inizia così la presentazione che fa di se stesso il veggente. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione. Mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Dice, è un tempo in cui siamo tutti nelle grane. Come vivere questo momento? Ecco, l'Evangelista Giovanni è proprio in questo contesto che vuole presentare i cristiani delle sue comunità quelle parole del Maestro che hanno dato coraggio e consolazione anche a loro nel tempo della Pasqua, tempo in cui hanno dovuto superare la prova della morte del loro Maestro. Ma queste parole sono state scritte per noi? Proviamo a riflettere. Una delle prove che ogni vero credente oggi sperimenta è la percezione di sentirsi spesso da solo. La gente che gli vive accanto ragiona, si comporta seguendo criteri e valori diversi dai suoi. Se lui parla di perdono, di mitezza, di castità, di rinuncia, di sacrificio, che cosa accade, che è ritenuto un tipo un po' strano, obsoleto, legato forse a convinzioni valide per i tempi andati, a volte viene anche deriso. Il cristiano sa che è inevitabile che questo accada, perché la logica del mondo è incompatibile con il Vangelo. Lo dirà Gesù un po' più avanti nel suo testamento, quando dice, mettetelo in conto. Se hanno odiato me, odieranno anche voi. E questo, quando accadrà, sappiate che io ve ne ho parlato. Ecco allora, in queste situazioni, l'importanza di lasciar penetrare nei nostri cuori come balsamo, le parole del Maestro che hanno consolato e incoraggiato i discepoli dalle prime comunità. Ascoltiamole. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Se mi amate, osserverete i miei comandi. Noi abbiamo un solo verbo per dire amare. I greci ne avevano almeno quattro di verbi. Uno è agapan, quello che viene impiegato qui. Dicono che in sanscritto ci siano ben 80 termini per descrivere le varie sfumature dell'amore. Noi abbiamo solo il verbo amare e amore sostantivo. Qual è il termine che viene impiegato fra i verbi greci? È agapan. Qual è la caratteristica di questo modo di amare? È l'amore in pura perdita. Quello di chi non pensa a se stesso, non pensa al tornaconto che può ricavare dalle azioni che compie, pensa soltanto a rendere felice chi è nel bisogno. Mette se stesso tutte le proprie capacità per donare vita e, se anche fosse un amico, una ragione in più per renderlo felice e per dimenticare se stesso. Oltre questo orizzonte di amore è impossibile andare. Bene, è questo verbo che viene impiegato come caratteristica della vita del discepolo di Cristo. Vivere per un discepolo di Gesù di Nazareth significa amare. Chi non ama in questo modo vegeta, non vive da uomo. Essere uomini vuol dire amare. Bene, questo termine, agape e agapani il verbo, ricorre 259 volte nel Nuovo Testamento. E nel Testamento di Gesù che ci viene presentato in questi cinque capitoli del Vangelo secondo Giovanni, il termine amore, amare, ricorre 26 volte. Questo ci dice l'importanza che Gesù dà a questo messaggio che vuole che rimanga nel cuore dei suoi discepoli perché è il centro della vita di un cristiano. Che cos'è questo verbo amare? Non è un'emozione del cuore, quella che provano gli innamorati, no? Quello è Eros, che è una cosa molto bella, una pulsione che ci ha messo Dio. Agapan vuol dire non ricercare l'altro per sé stesso, ma cercare come io posso soccorrere il fratello che è nel bisogno aiutarlo a vivere. E Gesù qui chiede amore per sé. Ed è una specie di ritornello che forse c'è anche un po' stupito perché Gesù chiede questo Agapan per sé. Ricorre quattro volte nel suo Testamento. Dice se mi amate osserverete i miei comandi, chi osserva i miei comandi questo mi ama, se uno mi ama osserverà la mia parola, chi non mi ama non non osserva le mie parole. È la prima volta che Gesù parla in questo modo. E cosa vuol dire amare lui? Non è una richiesta egoistica, questo sarebbe un Eros, un chiedere che l'altro rimanga tutto per lui. No. Qui vuol dire scegliere lui, scegliere la sua proposta di vita, significa unire la propria vita alla sua come accade alla sposa che non vuole altri amanti perché il suo cuore è legato solo allo sposo con il quale sintonizza tutti i progetti di vita. Questo è l'amore che Gesù chiede. Sintonizza la tua vita sulla mia. E oggi Gesù ci invita a valutare quanto siamo coinvolti nella sua vita, nel suo progetto, quanto della nostra vita siamo disposti a puntare su di lui. Lui dice io punto tutta la mia vita sulla gape, faccio della mia vita un dono, quanto tu sei disposto a puntare su questa mia proposta. Chi mi ama osserva i miei comandi. Vediamo di chiarire questa espressione perché sulla bocca di un innamorato a noi sembra stonare un po' che si parli di comandi. Non ci piace che si parli di ordini, di disposizioni. Un innamorato non parla così. Qui siamo in un contesto di amore, non il contesto del padrone con il dipendente stipendiato. Cosa intende Gesù per i comandi? che sono suoi. Notiamo bene, teniamolo presente. Gesù non ha mai parlato del dovere di obbedire a lui. Mai ha detto dovete obbedirmi e non ha detto mai che si deve obbedire nemmeno a Dio. Quando viene impiegato questo verbo nei Vangeli, in greco, è sempre riferito agli ordini che Gesù dà non agli uomini o ai discepoli. Comanda agli spiriti immondi, ai venti, alle onde agitate del mare e queste devono obbedire. E difatti gli obbediscono. Sono le forze del male che devono obbedire. Mai gli uomini. Addirittura il termine obbedienza, hupakoe in greco, non ricorre mai nei Vangeli. L'uomo non è chiamato a obbedire a Dio, ma ad assomigliare al Padre del Cielo, a vivere in sintonia con la vita che il Padre gli ha dato. E la vita del Padre è l'agapan, l'amore in pura perdita che pensa soltanto a rendere felice l'altro. Quindi non si tratta di obbedienza degli ordini, ma a mantenere la disposizione del cuore di ascoltare questa vita divina, lo Spirito che ti dice in ogni momento come tu puoi manifestare il tuo amore. Del resto l'obbedienza mantiene in uno stato di soggezione, questo è incompatibile con l'amore, è la somiglianza che ci fa crescere. La somiglianza al Padre è perfetta in Gesù. Lui ha sempre obbedito alla sua identità di figlio di Dio ed è quell'obbedienza che è richiesta a noi, non a ordini esterni, ma alla nostra vita di figli di Dio. Potremmo quindi direi parafrasare così la richiesta di Gesù sul suo comando. Se tu mi ami, osserva la mia vita e diventa come me. C'è quindi un unico comandamento, quello di Gesù. È la voce dello Spirito, è la tua identità di figlio di Dio. Difatti Gesù ha appena detto, vi dono un comandamento nuovo, un solo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Perché adesso? Gesù parla di comandamenti al plurale. Lui ha un unico comandamento al quale lui stesso ha obbedito, quello della vita divina, dell'amore. Adesso parla di comandamenti al plurale. La ragione è che l'unico comandamento si manifesta poi in molteplici sfaccettature. L'amore infatti si esprime in ogni singola azione ed è necessario discernere qui e ora ciò che l'unico comandamento ci chiama a fare. Magari in un certo momento mi chiede di assistere un malato, magari un malato che ci ha fatto dei dispetti, ci ha fatto dei torti, ma l'unico comandamento adesso si manifesta qui e io devo ascoltare la voce che viene dalla mia vita di figlio di Dio. In un altro momento mi chiede di accogliere uno che ha bisogno di essere accolto in casa. In un altro momento mi può richiedere di rinunciare a un mio diritto perché l'altro è nel bisogno. In un altro momento mi può chiedere di non puntare il dito per pretendere di essere servito. Ecco, in ogni contesto questo comandamento unico si manifesta in tante sfaccettature che divengono quelli che Gesù chiama i miei comandi. E ciò che Paolo dice nell'ino alla carità in greco, chresteuetai e agape, viene tradotto e benigna l'agape, l'amore è benigno. No, il significato autentico è che l'amore sa adattarsi a ogni situazione, momento per momento discerne il bene da compiere, in ogni circostanza sa riconoscere ciò che vuole fare lo spirito. Ecco quindi come l'unico comandamento è attento a tutte le richieste di amore del fratello. Ed è in questo contesto d'amore che Gesù parla di un altro paraclito. Il termine paraclito significa paracaleo, chiamato vicino, advocatus in latino, avvocato. Qual è il compito dell'avvocato? È quello di difenderci da chi ci attacca, da chi ci vorrebbe rendere prigionieri in prigione e anche se siamo innocenti, ci viene questo attacco e c'è l'advocatus che ci protegge e ci difende. E Gesù parla di un altro paraclito, perché lui è stato il primo paraclito, colui che è stato accanto ai suoi discepoli e adesso c'è un altro paraclito che continuerà a svolgere la stessa missione di Gesù. Qual è la missione protettiva del paraclito? Da chi ci difende? Non certo dal Padre del Cielo che ci vorrebbe condannare per i nostri peccati, no, no. L'avversario è chi mi vuole togliere la vita. Chi non vuole che io viva da uomo vero? E chi è questo nemico? Il maligno. La mentalità di questo mondo, quella forza è tutto ciò che ti vorrebbe portare a pensare a te stesso, a disinteressarti dell'altro. Quindi è l'opposto dell'amore che Gesù invece ci propone. E questo paraclito sarà con voi per sempre, sarà un compagno fedele. Vediamo di chiarire chi è questo paraclito che è sempre con noi, è sempre al nostro fianco, ci protegge in ogni momento dalle forze che ci vorrebbero togliere la vita. Un'esperienza che possiamo fare tutti noi. Se io perdono a uno che mi ha fatto un grave torto, potrei fargliela pagare, ma non otterrei nulla se non la soddisfazione di vederlo soffrire. E io non lo faccio. Chi è guidato dalla mondanità, dalla logica di questo mondo, può anche accusarmi di d'abbenaggine, di uno debole che è incapace di farla pagare. Ma il figlio di Dio che è dentro di me, lo spirito che mi è stato donato, mi dice complimenti, sei un vero figlio di Dio. Se rinuncio a uno scatto di carriera professionale, perché avrei dovuto scendere a compromessi con la coscienza. Gli amici forse mi possono anche prendere per ingenuo, per sempliciotto. Ma quando viene la sera, quando sono solo con me stesso, io sento una voce dentro di me che mi dice complimenti, sei stato un uomo vero. Bene, questa voce è quella dello spirito che è sempre con noi e ci protegge da quel nemico che è la mentalità maligna che ci porterebbe non ad amare, ma a ripiegarci su noi stessi. E tu sentirai fuori da un certo giro di amici, ti sentirai fuori da chi la pensa in un modo diverso, ti sentirai anche solo. Dall'accusa della mondanità che forse ti deride, questo paraclito ti difende. Ed è lo spirito della verità. Cosa significa spirito della verità? Non che non dice bugie, è lo spirito che ti porta a essere un uomo vero. Se tu non ami non sei un vero uomo. E ora le parole di consolazione che Gesù rivolge ai discepoli che inevitabilmente in certi momenti si sentiranno soli e smarriti in mezzo a coloro che preferiscono seguire la proposta fatta dal mondo. Ascoltiamo queste parole del Maestro. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Non vi lascerò orfani, dice Gesù. Vengo presso di voi. Non ritorno, no, vengo. Se io perdo un amico rimango solo. Non sono più amico, manca il referente. È un qualcosa di me che è andato perso. E se una sposa perde lo sposo, non è più sposa, è vedova, è orfana. Se un figlio perde il padre, non è più figlio, è orfano. Quando Gesù lascia questo mondo, i suoi discepoli temono di rimanere orfani. Manca il Maestro, non siamo più discepoli, ne va dalla nostra identità. Bene, Gesù dice loro non rimarranno orfani. Questo non accadrà. Io vengo presso di voi. In un modo diverso accadrà qualcosa di inaudito. Vi troverete coinvolti in una mia presenza immensamente più vera di quella che voi avete sperimentato quando per tre anni sono vissuto accanto a voi fisicamente. Io vengo da voi. Il mondo non mi vedrà più. Il mondo è la mondanità che vede solo il materiale, il verificabile. Bene, per il mondo Gesù sarà un fallito, finirà nel sepolcro, finita per sempre. Voi invece continuerete a vedermi perché io vivo e voi vivrete. Vivere, lo abbiamo appena detto, significa amare. Il resto è vegetare, che è una cosa bella, ma se non arrivo a questa vita che è quella dell'amore, non sono pienamente uomo. Voi vivrete perché siete coinvolti, sarete coinvolti nella mia stessa vita. Quella vita che unisce me al Padre, adesso questa stessa vita sarà comunicata a voi con il dono dello Spirito. La mia presenza, quindi, non sarà un'amicizia esterna come quella che avete sperimentato finora, ma sarà una vita di perfetta e piena comunione. E non solo sarete uniti a me, ma sarete uniti e coinvolti nella vita del Padre del Cielo. Quando noi teniamo presente questo messaggio che Gesù ci ha lasciato, questo testamento, allora tutto nella nostra vita in questo mondo cambia di prospettiva. Noi vediamo qual è il nostro destino, non solo come andremo a finire, ma ciò che adesso sta accadendo in noi. Siamo coinvolti con Cristo nella vita di Dio. Vita vera è questa, il resto è menzogna. Auguro a tutti una buona Pasqua e una buona settimana. Grazie a tutti.